Si è svolta il 13 giugno a Gran Michele la presentazione del progetto Occhiola Mobile organizzata dal Rotary Club Gran Michele Sud di Simeto che ha visto coinvolte diverse realtà locali per la realizzazione di un progetto che ha come scopo quello di essere una visita raccontata al parco archeologico di Occhiola su dispositivi mobili. È intervenuto ad accogliere il pubblico, il presidente del Rotary Club, l'avvocato Giuseppe Piccolo insieme al sindaco di Gran Michele Salvatore Canzoniere. Numerosi sono stati i contributi di persone e associazione per mettere in atto il progetto tra cui l'associazione Terra Vecchia rappresentata dal suo presidente Vittorio Di Geronimo, il liceo artistico Raffaele Libertini di Gran Michele rappresentato nel preside Salvatore Massimo Insirillo, oltre a Michele Anguzzi e Salvatore Cucuzza che hanno curato gli aspetti artistici e tecnici del progetto. Vi è stato anche l'importante contributo di Giuseppe Palermo, ideatore e curatore di tesi e applicazioni, ma anche di Francesco Murgo, regista e interprete protagonista. Un team eccezionale per un progetto ambizioso che sta per essere ultimato e consegnato ai cittadini della splendida città esagonale e turisti che visiteranno il parco archeologico di Occhiola. Le interviste a Salvatore Cucuzza. Nasce in realtà da un'esigenza perché eravamo con dei nostri amici rotariani del distretto a fare una vista al parco archeologico di Occhiola e ci siamo accorti che non eravamo attrezzati a raccontare bene il luogo. Allora in quella occasione abbiamo invitato il professore Palermo, il professore Cavallaro, il professore Burgo per raccontarci, senza avere ancora i testi che abbiamo oggi, per raccontarci le vicissitudine legate al parco archeologico. Ed è stato un successo perché in realtà siamo riusciti a far rivivere quei luoghi e a dare l'impressione che esistesse subito dopo il terremoto del 1693. In quell'occasione insieme ai componenti del Rotary abbiamo pensato ma perché questa idea non la sviluppiamo in un'applicazione in modo tale che tutti possano vedere e provare queste sensazioni? E da qui è nato il progetto Occhiola Mobile. Grazie a tutti.